Mi chiamo Alessandro Chidemi, oggi abbiamo giocato contro il Cellini, è stata una partita sofferta ma comunque la squadra si trovava al nostro livello e la partita è stata pareggiata. Siamo stati davanti più o meno fino a metà del secondo tempo e purtroppo negli ultimi 10 minuti siamo calati d'intensità e la partita è stata pareggiata. Questo è un progetto veramente molto bello e interessante perché comunque si cresce sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico ed è veramente bello e divertente stare in un gruppo come questo.